Erano in tanti a sfilare domenica sera 3 novembre a Ceccano, in provincia di Frosinone, partecipando al corteo della legalità, organizzato dal comitato del centro storico. Oltre un migliaio di persone ha manifestato per le strade di una città ferita dalle vicende giudiziarie che hanno sconvolto la località Ciociara, travolgendo i vertici dell'amministrazione comunale, con 36 indagati, dei quali 13 finiti ai domiciliari, tra cui l'ex sindaco Roberto Carigiore. Un lungo corteo che ha sfilato ordinatamente in silenzio, preceduto da due striscioni su cui c'era scritto Libertà e legalità e legalità per Ceccano. Non c'erano bandiere o simboli di partito, questa era la protesta della gente contro la corruzione, contro l'illegalità. Tra i partecipanti al corteo c'era Lampi, Pequod, PSI, Proloquo e Rite delle Associazioni e poi tanti giovani. Nessuna bandiera politica ma rosso-blu, i colori del comune di Ceccano, come richiesto dagli organizzatori della manifestazione. Il corteo si è mosso in silenzio fino a Piazza Municipio. Per chi c'era è già iniziato un futuro. Si augurano diverso. Il corteo della legalità, che si è svolto a Ceccano e che ha visto la partecipazione di tanti cittadini e associazioni, è stato organizzato dal Comitato Centro Storico. La Presidente, Patrizia Fabbi, ha spiegato perché è stata organizzata questa manifestazione. Abbiamo cercato di coinvolgere la cittadinanza e siamo soddisfatti di questa risposta perché significa che la cittadinanza non dorme. La cittadinanza non è più disposta a farsi mettere i piedi in testa da chi vuole venire a Ceccano a farsi i propri comodi. La cittadinanza si sta riprendendo in mano la città e noi siamo orgogliosi di questo perché ci vuole solo questo per Ceccano. Alessandro Libordi, di Ceccano 2030, spiega perché hanno aderito lui e l'associazione al corteo. Siamo qui con gli altri cittadini di Ceccano e con le altre associazioni perché siamo particolarmente indignati e siamo pronti per trasformare questa rabbia in un sentimento costruttivo perché siamo stanchi di subire le angherie, le prepotenze di un'amministrazione che non ha rispettato nulla di quello che volevano fare e pretendevano i cittadini e da qui vogliamo ripartire tutti quanti uniti e tutti quanti insieme per cominciare a costruire un progetto di città partecipata, di città condivisa con il resto della cittadinanza e una città solidale con tutti e con tutte. Tanti cittadini che hanno preso parte alla manifestazione spiegando il loro pensiero. Ma quello che penso è che anche a scuola facciamo spesso iniziative sulla legalità contro le mafie eccetera e mi sembra che le istituzioni non ci aiutino, tutto qui. Sono qui perché voglio manifestare con tutti quanti, perché non è giusto quello che è successo e per vedere quello che si deve fare, anche perché sarà proprio un macello, un casino e quindi vedremo. E quindi sono qui con tutti gli altri per manifestare con la bandiera della pace in modo tranquillo.